Grazie a tutti i presenti, grazie di aver accettato il nostro invito, di aver condiviso la causa e la vostra presenza è, come ho detto in aula, la dimostrazione della sensibilità, dell'importanza e dell'attualità delle tematiche discusse questa mattina. Io ho già fatto il mio intervento, quindi oggi penso che sia opportuno e utile a tutti noi la fase dell'ascolto, capire se dai vostri interventi emerge uno spunto, un indirizzo, un suggerimento su cosa fare da qui ai prossimi mesi, perché non è né un punto di arrivo né un punto di ripartenza, non ci siamo mai fermati e non ci dovremo fermare, consapevoli che questi eventi danno visibilità a delle tematiche, si fa politica perché si ha un palco per dar voce a chi non ha voce e mi pare che questa mattina l'abbiamo fatto bene. Lo stiamo facendo anche adesso, siamo online sul sito della Camera dei Deputati, non soltanto in diretta ma anche chiaramente il video una volta concluso l'intervento sarà scaricabile e riportabile su tutte le vostre piattaforme. Va bene? Quindi do la parola a Claudio De Mozzi che mi ha accompagnato, sostenuto e portato anche a livello informativo dentro questo mondo con competenza, serietà e professionalità. Oltre agli amici della famiglia Pieri ci conosciamo da anni ma hanno visto crescere che con loro non ho bisogno certo di fare presentazioni o palesare la mia vicinanza alla loro causa. Però ecco Claudio da un punto di vista professionale veramente si è dimostrato all'altezza del compito che ha nel sindacato e anche di più, cioè l'ho chiamato a tutte le ore, in tutti i momenti, ho chiesto mille sforzi per concretizzare questo impegno e ha dimostrato veramente una passione al di là del ruolo e di ciò che poteva fare. Grazie. 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 E' fondamentale poter condividere ulteriori passi e faccio alcuni esempi giusto per proporre dei temi sui quali poi magari avremo occasione di confrontarci. La situazione della famiglia Pieri purtroppo non è una situazione singola, non è una situazione isolata, è una situazione purtroppo molto diffusa sul territorio che riguarda migliaia di casi. Noi abbiamo avuto solo l'anno scorso 14 casi di suicidio da parte di agenti assicurativi messi nelle condizioni dalle imprese che rappresentavano di perdere la certezza nel futuro, nella possibilità di mantenere se stessi e la loro famiglia. Quando un imprenditore arriva al suicidio stretto in un rapporto con un partner che spesso fa pesare il proprio strapotere, non per valorizzare la partnership a servizio del cliente, ma per il solo interesse proprio, perché gli utili non bastano mai, mettendo anche in condizioni impossibili il partner sul territorio, cioè la gente, c'è bisogno di un aiuto dalla politica buona che sappia capire che questo rapporto di forza va ribilanciato. Un esempio su tutti, il passaggio che il governo ha fatto sul conto separato, ribadendo quello che noi da anni chiediamo alle compagnie, cioè rispettare la separatezza patrimoniale nell'interesse di una stabilità anche economica della gente, noi sul piano negoziale del rapporto one to one con le imprese non riusciamo ad ottenerlo, perché noi portiamo i pareri dell'autorità di vigilanza, portiamo le leggi che ci impegnano e ci tutelano e otteniamo dall'altra parte a volte la risposta ma noi facciamo così. Allora c'è bisogno di un riequilibrio che il legislatore ha i mezzi per fare, la politica ha la possibilità di fare, perché sul piano negoziale individuale questa forza noi, essendo la parte debole nel rapporto tra gente e impresa non abbiamo. Tutto quello che hai messo in luce, cioè la necessità che il governo utilizzi anche attraverso le autorità, ogni mezzo per permettere la libera autonomia professionale degli agenti è il nostro slogan e ci vedrà sicuramente disponibili per fornire supporto, materiale, casistica, indicazioni. Io vorrei che tu raccogliessi la disponibilità dell'associazione che compie 100 anni nel 2019, lo SNA, che storicamente rappresenta gli agenti assicurativi da subito, da adesso, a produrre ogni elemento, documento per supportarti in nuovi interventi anche di questo tipo. Se poi vogliamo allargarci e pensare addirittura, non so se sia un'utopia, a una proposta di legge per intervenire ad aggiustare qualche norma che dai precedenti governi è stata scritta anche bene, ma che le compagnie hanno trovato il modo, magari apparentemente lecito, di impedire, di ostacolare o di snaturare, anche su questo da massima disponibilità. Per cui, grazie ancora, sentitamente dalla categoria per il lavoro svolto, e rinnovo questa disponibilità. Io credo che, se tu ci sarai, al nostro fianco avremo diverse iniziative da mettere in atto. Bene, grazie Claudio, direi Andrea, e poi apriamo la discussione a chi vuole intervenire. Allora, anche da parte mia, un ringraziamento a Eodeuardo, a ciò che hai detto e sostenuto all'interno dell'interrogazione. Ineccepibile, devo dirti la verità, anche per noi, Pieri, sicuramente molto emozionante, lo è tuttora. Sono momenti, quelli che stiamo vivendo, sicuramente non facili, però li stiamo affrontando con determinatezza, dopo le nostre volontarie dimissioni, le abbiamo affrontate e le stiamo portando avanti. Un ringraziamento anche a Claudio, perché i presidenti si possono fare in tanti modi. Però farli concretamente, mettendosi dal primo minuto al fianco di un agente, questo è quello che ogni presidente dovrebbe fare. Quindi Claudio, grazie veramente tanto di questo comportamento. Scusate anche un po' l'emozione, perché indubbiamente stiamo vivendo dei momenti, come dicevo, non facili, però allo stesso modo, con forza, li portiamo avanti. Un grazie anche a Anna Rosa Molinari, il nostro avvocato del sindacato, che con la stessa determinatezza e grande professionalità, ci sta aiutando e sta portando avanti questa nostra causa. Causa che, come già detto molto bene da Edoardo e da Claudio, è un caso personale, ma non vorremmo e non vogliamo che sia un caso personale, perché attraverso la risoluzione della nostra problematica, vorremmo che ne beneficiasse tutta la nostra categoria, categoria che riesca a fare uno sforzo anche di cambiare passo nel modo con cui approccia certe cose, con una maggiore fiducia, fiducia che riusciamo ad avere con l'unione che possiamo esprimere tra di noi. Per questo voglio ringraziare anche tutti voi che siete qui presenti, perché una delle cose più brutte di queste fasi è sentirsi soli. E il fatto di non sentirsi soli è molto importante, dà la forza. E quindi vi ringrazio tanto anche voi, io questa giornata non la dimenticherò mai e vi ringrazio di essere qui presenti con noi. Un'ultimissima cosa. Vorrei anche un particolare applauso e una vicinanza a mio padre, perché dopo 50 anni di monomandatario, certamente lui non si sarebbe aspettato questo tipo di comportamento. Non è giusto che lui, a termine di una carriera che tutti hanno ritenuto di alto livello, che ha dedicato non solo nel lavoro, ma anche da un punto di vista sindacale, sia stato trattato così. Io in alcuni momenti lo vedo che è triste, che è preoccupato di questa situazione. E tutto questo non deve passare inosservato. Quindi aiutateci anche a portare avanti questa situazione. Certamente dopo che un figlio fa questa dichiarazione, l'abbraccio caldamente, a come abbraccio gli altri figli. Abbraccio tutti voi, perché siete qui a dare conforto, come diceva Andrea, a una battaglia di questo tipo. E ringrazio Claudio, Anna Rosa, ma un abbraccio forte lo do a Edoardo, scusate. Non perché siamo in un pezzo di casa sua. Io questa cosa la prevedevo quando era piccolo, perché fin da piccolo dentro di sé aveva sempre la posizione giusta sulle problematiche. E quindi questo per lui è stato uno sbocco quasi naturale. Ricordi, una volta ci siamo incontrati e ti dissi cose di questo genere. Certo, sei stato veramente bravo. Ti devo dire che forse nemmeno io, che ho vissuto in prima persona, nemmeno uno dei nostri figli che ha vissuto in prima persona queste cose, avrebbe potuto fare un intervento così, al di là del contenuto che era perfetto, ma veramente con lo spirito giusto che interpretava veramente una situazione. E interpretava la situazione della categoria. Giustamente si diceva prima del conto separato. Conto separato che loro impongono che sia violato per 72.000 euro. Cito un particolare. Nel controllo del conto separato all'Agenzia di Montecatini, un giorno, di una delle ispezioni di tre o quattro anni fa, c'era finita una bolletta del pagamento di una quota condominale di 43 euro di Andrea. Ci volle la firma del direttore che se ne assumeva la responsabilità. avendo sbagliato il numero, la debitava sul conto separato piuttosto che sul conto personale di Andrea. La dichiarazione, la contraddichiarazione, la giustificazione. E alla meglio, bontà loro, dissero, beh, via, l'accettiamo. Siamo di fronte a questo tipo di rapporto. 72.000 euro messi in conto separato perché così hanno voluto, con una naturalezza come fosse la cosa più scontata del mondo, ti ci finisce una bolletta da 42, da pochi spiccioli, e devi portare un pacco di giustificazioni. Solo uno stupido può capire che uno 42 euro o 50 euro che era questa bolletta non poteva inficiare una regolarità contabile che ha sempre avuto nell'Agenzia di Montecatini dall'inizio fino alla fine una massima trasparenza. Io sono uno che la contabilità la fa perché vengo anche da questo tipo di professione prima di aver fatto quella degli agenti e poi parallelo con gli agenti, ma figurati se noi non abbiamo una contabilità. E quella volta lì il direttore aveva dato una bolletta, ma era talmente facile capirlo. Eppure c'è blu da tutto. Quindi questo rapporto, Edoardo, va riequilibrato perché dietro a queste persone che sono qui oggi, come alla nostra, ci sono famiglie, non solo le nostre famiglie, ci sono le famiglie dei dipendenti, le famiglie dei collaboratori, che devono vivere di certezze. Non si può essere più condizionati dall'incertezza di un rapporto che ti mette in sudditanza e ti costringe a fare anche cose tipo questa di 72 mila euro messo nel conto separato. Cioè non è possibile. Io che ho scritto molte risoluzioni congressuali anche all'interno del gruppo Zurigo dove ho fatto il Presidente e generalmente nell'ultima frase si diceva come sintesi del contenuto che la cosa che noi volevamo era quello di essere considerati con pari dignità. È ancora uno scritto che continuiamo a ripetere, ma che purtroppo non trova la realtà. E quindi quello che tu puoi fare su questo piano te ne sarà grato non solo una categoria antera, e questo sarà, ma anche quelle che sono dietro di noi, quelle migliaia di persone che vivono di questo lavoro, che oggi sono preoccupatissime perché i tempi delle vacche grasse purtroppo non ci sono più, per gli agenti, le compagnie cosa fanno? Anzi, in questo momento attraverso meccanismi di difficoltà generale trovano il modo di fare solo una cosa, di schiacciarti sempre di più, di caricarti sempre più di competenze, di mandare via il loro personale, così alleggeriscono i loro bilanci di pacchetti di dipendenti che mandano via, caricando le agenzie alle quali sono arrivate al punto che trovano difficoltà a trovare un equilibrio di bilancio. Ma l'equilibrio di bilancio non si vince con il premio, premio di produzione. Il bilancio lo fai con delle certezze che purtroppo sono venute meno alla categoria e accanto a queste è cresciuta la prepotenza perché la situazione di difficoltà attuale fa riflettere. Noi abbiamo riflettuto tre anni e abbiamo sbagliato perché l'affetto verso il marchio ci ha portato, e io qui mi sento in qualche misura anche responsabili perché chiaramente io l'attività l'ho iniziata con Zurigo nel 66, e ci ha portato a posporre, dice ma probabilmente le cose poi ripartono, no niente, qui c'è un meccanismo perverso, scientifico, portato avanti da dirigenti che sono prezzolati, che sono pagati per far questo, e soltanto a questo legano le loro carriere. Un percorso totalmente diverso rispetto a quello che deve fare la gente. Queste situazioni, se non c'è un intervento forte, deciso, con la stessa verve che ti hai usato, e del quale ancora una volta ti ringrazio, credo che questa è una categoria che se quest'anno c'è stato 14 suicidi, probabilmente ce ne sarà in futuro degli altri, io mi auguro di no, perché la vita conta molto di più di un provvedimento di una compagnia che peraltro, guarda caso, in casa nostra è andata a mettere la sede propria in Irlanda. Quindi la dice anche tutta su quanto è affezionata alle sorti del nostro Paese e che poi alla fine se decide di investire in Cina perché gli conviene, va a investire in Cina e vuol dire che gli agenti Zurigo poi andranno in Cina, chi ci vorrà andare? Io resto in Italia e con questo chiedo l'aiuto del Governo, del Paese, delle parlamentari, delle forze politiche perché effettivamente è l'ora di dire basta e di questo ti ringraziamo veramente tanto. Scusami, ti voglio un altro spunto alla discussione. Di una cosa non abbiamo parlato e secondo me dovremo farlo qui in questa sede. Il rischio della rivoluzione digitale, della rivoluzione tecnologica è un rischio che in questo settore è forse più presente che in altri perché l'obiettivo ora è indebolire gli intermediari ma successivamente sarà eliminarli. Cioè disintermediari al massimo e quindi se non riusciamo a far valere il meccanismo di tutela dal basso garantendo chiaramente al consumatore un interesse ad avere un soggetto che lo tutela e di conseguenza si lega a lui sarà più facile dopo superare anche la disintermediazione perché dopo scusami quando guardi il mercato da esterno e quella persona di cui ti dovevi fidare in realtà scopri che non ti ha proposto le cose migliori del mercato ma solo ciò che la compagnia gli imponeva a quel punto salta il tappo salta il tappo quindi questo è un tema secondo me che è una conseguenza dei tempi e va arginato ora dimostrando che questa categoria questi soggetti con la vostra competenza va a vantaggio del consumatore e dell'utente e non della compagnia monomandataria scusatemi se apro un ulteriore elemento di discussione però è un tema che è oggetto di tutti i dibattiti si pensa solo alle macchine agli operai ma ci sono anche quelli giustamente ma c'è anche altro perché è un sistema in profondo mutamento hai ragione una piccola integrazione a questo riguardo che hai centrato un argomento molto forte l'obiettivo delle compagnie è ridurre a quota zero la professionalità degli agenti come? quando ti fanno la sostituzione di un prodotto e ti impongano di fare la riforma del vecchio prodotto che avevi per aggiornarlo con la nuova polizza te se lo vuoi fare nel rispetto di quella norma più delle volte ti trovi una polizza peggiorativa rispetto a quella precedente ma allora noi siamo gli interlocutori del mercato inteso come consumatore o siamo i sudditi delle compagnie che impongano una situazione di questo genere perché quello che hai detto è perfettamente vero e la pianificazione su sistemi è quello perché il prodotto abbia un livello sempre più basso ma c'è quello e non c'è altro Vito era solo un tema che conoscono perché anche le autoriti di settore dovrebbero essere sensibilizzate nel modo giusto coinvolte e se sarà possibile potremmo tentare di farlo insieme perché di questa disintermediazione strisciante che molte compagnie stanno cercando di attuare per tagliarci fuori nel rapporto tra loro e il cliente qualche volta anche inconsapevolmente si fanno complici le autoriti l'ultimo provvedimento dell'Ivas ad esempio sulla gestione dei reclami noi lo abbiamo dovuto impugnare davanti al TAR del Lazio nonostante gli ottimi rapporti che lo SNA conserva con l'Ivas negli ultimi anni abbiamo ottimi rapporti ma davanti alle pressioni delle imprese ci è stato impossibile far comprendere all'Ivas nonostante documenti prodotti quanto fosse in conflitto di interessi un'impresa delegata dal nuovo regolamento sui reclami emanato dall'Ivas a gestire lei ogni contenzioso nascente tra cliente e intermediario cioè l'Ivas ha fatto una scelta strategica poteva farla diversamente come ha fatto per i broker che se un mio cliente si lamenta del mio operato per legge ne rispondo io ho l'obbligo di una polizza professionale come gli avvocati come i commercialisti per codice dell'assicurazione ne rispondo io anche se l'operato di un mio collaboratore anche se penalmente condannato ma nel regolamento Ivas è l'impresa a gestire quel reclamo che il cliente è avanzato nei miei comportamenti per un mio comportamento per un mio abbiamo sottolineato come invece la gestione dei reclami dovesse rimanere in capo all'intermediario il reclamo lo gestisco io ne rispondo per legge pago l'eventuale danno che ho provocato ecco per dire quanto è radicata la l'idea promossa da alcune grandi compagnie sullo svilimento della nostra figura professionale quindi c'è un lavoro da fare anche nei confronti delle autoriti molto importante perché provvedimenti come quello sui reclami partono sbagliati perché partono da concetti medievali di agenti che sono la lunga mano dell'impresa sul territorio ma non è più così l'agente è un libro professionista che è titolare di un proprio rapporto col cliente poi è anche rappresentante dell'impresa c'è un percorso culturale da fare anche con l'autority di settore poi come tutte le autority c'è qualche dirigente illuminato che è già avanti e qualche dirigente un po' meno illuminato che fa più fatica anche lì c'è da fare un lavoro tavoli convegni quello che vogliamo ma per portare queste autority a cominciare a conoscere un po' meglio il settore che devono vigilare anche se sembra incredibile dover andare a spiegare al vigilante chi è il vigilato però siamo un po' in questa solo un'integrazione per tornare sui temi anche di norme che ci sono già quando hai parlato in aula della legge Bersani ecco anche da questo punto di vista su questo tema che stiamo trattando c'è già una norma che prevede l'adeguatezza contrattuale allora l'adeguatezza contrattuale passa anche e soprattutto dalla consulenza che gli agenti fanno rispetto alle esigenze che il cliente chiede al consumatore finale con i prodotti standardizzati sempre meno si avrà il rispetto dell'adeguatezza contrattuale perché in quel contratto ci saranno delle condizioni che vuole la compagnia e non sono le condizioni che il cliente chiede e si confronta con un consulente assicurativo allora ritorniamo al tema di prima le norme ci sono ma le compagnie tentano di aggirarle anche in questo caso quindi anche questo è un tema veramente di grande confronto così come quello del provimandato che è normato ma che poi di fatto non produce gli effetti che si era prefisso di portare avanti e permettetemi di prestare tutta la mia solidarietà a questi pensieri e a queste valutazioni che abbiamo fatto e a proposito dell'ultimo pensiero di Andrea voglio far osservare alla politica che è proprio questa esigenza di riequilibrio è dettata dal fatto anche che abbiamo un accordo ANA fermo al 2003 rispetto al quale ormai la normativa nazionale è andata oltre abbiamo un codice delle assicurazioni che è del 2005 l'accordo ANA non sa neanche che cos'è quindi noi abbiamo oggi una figura di intermediario assicurativo che si trova tra l'incudi nel martello nel senso che ha degli obblighi nuovi di comportamento a tutela del consumatore fissati per legge dal codice del 2005 e poi si trova in casi di scioglimento di mandato a dover combattere con le compagnie con la compagnia mandante da cui si è sciolta per concorrenza sleale allora ci sono delle posizioni di totale disintonia tra quello che vuole il nuovo legislatore e quello a cui è ferma l'ANIA è fermo il rapporto assicurativo agenziale non c'è stato più un riequilibrio tra i rapporti di agenzia con tutto l'impianto assicurativo nuovo che è a tutela del consumatore in effetti che è voluto dalla comunità europea che vuole uniformare il sistema che vuole garantire e che sa che l'unico l'unica fonte di tutela del consumatore non è l'impresa è l'intermediario quindi se l'intermediario ha questo ruolo questo ruolo deve essere garantito valorizzato normato e scusatemi imposto all'impresa e l'impresa lo deve valorizzare questo ruolo non lo può soffocare con strumenti di forza con strumenti di pressione con strumenti di imposizioni commerciali piuttosto che diciamo di ricatto economico e che sono diciamo passatemi il termine del mondo del giurassico non sono del mondo del 2000 permettetemi scusatemi lo sfogo penso che oltre a condividere tutti e sottoscrivere quanto appena detto l'avvocato Molinari precisissima come sempre ma soprattutto molto centrato se qualcuno di voi ritiene di intervenire con proprie considerazioni gradita perché onorevole ha proprio sollecitato eventuali interventi quindi avete la parola basta prendere se posso ma devo fare solo delle considerazioni non ho delle proposte da fare cioè io dico che partendo da un fatto triste diciamo così una disavventura chiamiamola così di un collega e unita alla sensibilità del sindacato e all'interesse che ha dimostrato anche la politica e la splendida esposizione che ha fatto io credo che oggi sia quasi una giornata storica perché se noi non perdiamo questa giornata possiamo costruire davvero quelle cose che mancano che ha detto anche l'avvocato Molinari perché francamente la figura della gente professionista in questo mondo che cambia la disintermediazione che abbiamo l'accordo scaduto eccetera l'arroganza delle compagnie fa sì che se oggi tutto questo viene recepito e mi pare di sì e qui ci sono le condizioni non dobbiamo disperderla quindi andare avanti su questa giornata qui e anche in vicinanza ai politici che sentono l'argomento facciamo un bene al paese non alla categoria al paese perché noi facciamo una funzione sociale che nessuno ci riconosce anzi e quindi è un fatto che secondo me se viene colto costringiamo queste compagnie arroganti che sono poi 5, 6 non sono 100 ecco sono quelle che tengono bloccato il restante mercato perché hanno il predominio hanno l'80% del mercato e possono permetterselo quindi disattendendo completamente alle disposizioni posso sottolineare chi è quanto hanno influito le ricette posso portare l'esempio dell'accorpamento Ina Toro con Generali è stato una catastrofe soprattutto per la rete Toro catastrofe e poi legge sul giornale che naturalmente queste cose su tre due vanno male questi accorpamenti però è questo che si verifica penso ancora ancora oggi quindi è stato un dramma per la rete Toro c'è un sicuro non che l'ho nel caso mio ma nel caso di tutti con lei tutto mi premeva sottolineare che il collega che ha parlato un attimo fa è il presidente del comitato che riunisce tutti i presidenti dei gruppi aziendali agenti d'Italia quindi rappresenta la quasi totalità degli agenti italiani dentro il sindacato nazionale agenti quindi le sue affermazioni hanno un certo valore anche dal punto di vista strategico nostro come categoria e lo ringrazio molto di questa espressione invece per il discorso delle concentrazioni c'è già uno studio dello SNAD qualche anno fa già l'Italia aveva la caratteristica di avere un altissimo indice di concentrazione del mercato che non ha uguali nel resto d'Europa è molto superiore alla media europea avevamo già dimostrato nel 2009 come il mercato italiano fosse un'anomalia nel mercato europeo in tema di concentrazione pensa che a parte l'RC auto dove 5 gruppi fanno i traquarti del settore ma i primi 10 gruppi in Italia fanno oltre l'80% di quota di mercato è un mercato concentrato come pochi altri le fusioni concentrazioni degli ultimi anni hanno accelerato e aggravato ulteriormente questo già anomalo grado di concentrazione il tema che abbiamo affrontato in qualche convegno anche alla presenza dell'antitrust è che c'è una soglia sapete no di rilevanza a livello europeo che è il 30% di ma in un mercato che già è iper concentrato il 30% credo e ecco un'idea di possibile intervento legislativo però bisogna partire dall'Europa probabilmente il 30% è già tantissimo perché significa che tre grandi gruppi possono fare il 90% del mercato che mercato è nelle mani di tre grandi gruppi quella soglia secondo me per certi settori in particolare quello assicurativo e finanziario dovrebbe essere minimo ridotta a un terzo minimo già una quota di mercato del 10% su un mercato come quello delle assicurazioni da 150 miliardi di euro all'anno di incaso in Italia è tantissimo per cui c'è da lavorare molto perché queste concentrazioni fanno in modo che e faccio brevissimo se siamo in tre gruppi che controlliamo il 30% ciascuno vuol dire abbiamo in mano l'intero mercato e vincoliamo i nostri agenti a lavorare in esclusiva il gioco è fatto concorrenza non c'è più questo è il fenomeno verso il quale si sta andando nel nostro settore posso? Allora innanzitutto sono qui allora io sono del medico sono il coordinatore regionale fino al 31 di marzo coordinatore regionale della Toscana quindi sono il successore di Arnaldo dopo tanti anni e quando devo fare i complimenti ad Arnaldo perché ha sempre quella intelligenza veramente illuminante poi quella pacatezza che gli ho sempre invidiato quando lo ascoltavo nel lontano 91 così dicevo ma ce la farò io io non ce l'ho fatta perché mi incavolo dalla mattina alla sera sono altri tempi perché effettivamente l'ha raccontata lui la sua storia e concordo con quanto è stato detto faccio i complimenti per l'intervento in aula perché è stato sintetico ma veramente importante per quello che riguarda la nostra categoria una categoria mi fa piacere che anche altri colleghi siano intervenuti in tal senso e parlando con il presidente vorrei invitarti al 31 per l'appunto a un nostro roll show quindi a Firenze siamo vicini un quarto d'ora mezz'ora di intervento però sarebbe importante per far partecipare dell'accaduto di quello che come ci stiamo muovendo anche a favore di colleghi sia sul territorio ma anche a livello nazionale perché l'unione fa la forza e poi è un'unione è una forza noi lottiamo quotidianamente per i nostri clienti questo è fondamentale perché questo non riusciamo a farlo percepire veramente nei luoghi pubblici non riusciamo a farlo percepire perché effettivamente sta accadendo anche quello che hai detto tu la disintermediazione attraverso applicativi attraverso l'online una disintermediazione di fatto parlava il collega e questo mi fa piacere perché io sono uno di quelli che ha vissuto generali mangia tutto e cioè vale a dire sono un agente toro che è stata comprata io ho dovuto sostituire i contratti alla peggio in barba dell'adeguatezza i contratti alla peggio i contratti generali rispetto a quelli toro ma non si è mosso nessuno cioè ovviamente anche questo patto leonino cioè che non posso andare contro fare causa la compagnia perché se no si rompe quell'equilibrio quel rapporto fiduciario e la compagnia fa quello che ha fatto hanno fatto agli amici piedi quindi veramente l'invito ti prego di tenerlo in considerazione congresso non congresso siamo vicini è di venerdì quindi ho visto che l'aula è abbastanza non impegnata di venerdì quindi ci farebbe piacere veramente un tuo intervento e ovviamente loro ci saranno allo show e quindi racconterò anche del caso degli amici piedi che conosco da una vita ti ringrazio e vi ringrazio tutti su questo non riesco a trattenermi insisto su questo passaggio che è determinante anche per l'azione della politica nei vostri confronti nel momento in cui passa il concetto che la fidelizzazione cliente-agente avviene perché l'agente garantisce le migliori condizioni del cliente non c'è disintermediazione al mondo che cambia il vostro rapporto con il cliente perché il cliente sa che lavorate per fargli ottenere le migliori condizioni possibili che il mercato gli offre e questa è la Versani nel 2007 a dieci anni di distanza cosa è successo? La politica non deve solo normare ma verificare che la legislazione arrivi a quanto immaginato nel momento in cui si è redatta la legge allora è lì il gioco forse io la vedo anche in senso negativo e mi piace che rimanga agli atti questa mia dichiarazione la vedo a pensare male a volte si fa peccato ma ci si indovina cioè il fatto di costringervi a pratiche peggiorative nei confronti dei vostri clienti che guardano la vostra faccia al di là di quella della compagnia far perdere la fiducia tra cliente e intermediario forse vuole arrivare ad altri risultati finali allora noi che siamo a fianco dei consumatori degli utenti e del mercato non possiamo far passare questo messaggio così come se niente fosse ma vi rendete conto cosa ci è stato detto in quest'ultimo intervento che perché c'è stata una fusione che dovrebbe determinare delle economie di scala che si che si configurano non per chi ha fatto la fusione ma per il consumatore finale quei vantaggi invece vediamo che i vantaggi non li prende il consumatore ma li prende qualcun altro e noi non dobbiamo stare zitti di fronte a questa cosa qui scusami se si fa una fusione dovresti prendere la migliore condizione tra le società fuse rivolta al mercato no si prende la peggiore e si sta anche zitti questo è intollerabile e dobbiamo muoverci per sensibilizzare veramente anche il Parlamento rispetto a queste pratiche dimostra che non è un caso isolato ma è un caso che si sta ripetendo a macchia d'olio dottor Fanucci a sensibilizzare questo concetto le faccio rilevare che la normativa del codice delle assicurazioni prevede la responsabilità professionale dell'intermediario verso il consumatore se non dà il prodotto più adeguato alle sue esigenze ora io non voglio fare la pessimista faccio la giurista e quindi devo veder male a lungo termine e se devo guardare male guardo lo stesso percorso che è avvenuto per gli intermediari finanziari che più o meno sono i fratelli siamesi degli intermediari assicurativi allora se con gli intermediari finanziari anche lì tutto il problema di dover garantire al consumatore il prodotto adeguato al profilo di rischio piuttosto che alle tipologie di investimento eccetera ha portato delle cause a un contenzioso enorme di responsabilità professionale dell'intermediario finanziario che non ha rispettato queste regole dopo domani tocca agli intermediari assicurativi gli intermediari assicurativi rispondono verso il consumatore che non è stato tutelato e questo tant'è che sono obbligati ad avere anche loro una polizia RC professionale obbligatoria allora questo le dà un elemento in più per dire che l'obiettivo è la tutela del consumatore ma l'obiettivo ulteriore è tutelare il consumatore favorendo così un mercato concorrenziale che vuol dire le imprese devono investire risorse per realizzare e inventarsi prodotti più garantistici e più sempre più favorevoli alle coperture e alle esigenze del consumatore a prezzi competitivi e provino anche a fare qualche verifica con gli altri paesi europei che magari qualche spunto lo possono anche prendere soprattutto nei prodotti vita e finanziari non parlo più è troppo uno stimolo l'intervento dell'avvocato ancora una volta un'idea un'altra oltre al limite rilevante ai fini dell'antitrust per le concentrazioni che ribadiamo il 30% è eccessivo è altissimo perché permette a tre super poli controllare il 90% del mercato non esiste e siccome questo fenomeno sta concentrando in tre mega poli in Italia il mercato assicurativo è vero ci sono già compagnie che hanno un grado di quota di mercato un livello di quota di mercato che è assolutamente anomalo in un mercato che si definisce concorrenziale poi magari i dati li faccio anche avere ma al di là di questo un altro stimolo se è vero che la legge 40 2007 dispone che siano vietati i patti di esclusiva e a distanza di dieci anni si rileva l'antitrust rileva che le reti agenziali italiane sono ancora anomalamente in maniera anomala eccessivamente monomandatarie cioè la quota di agenti monomandatari in Italia sono ancora molto molto superiori alle attese evidentemente chi ha il maggior interesse perché le cose siano così cioè le imprese sono riuscite a mettere in piedi un insieme di ostacoli che rendono di fatto quasi impossibile per un agente organizzarsi in plurimandato e dico la disponibilità dei dati sulla clientela dico i piani di incentivo che sono subordinati al mantenimento di un patto di fidelizzazione cioè al monomandato dico gli interventi coercitivi come questi dei fratelli Pieri se la gente si azzarda a sottoscrivere un secondo mandato dico riservare la scontistica e le convenzioni soltanto a chi opera in monomandato dico intervenire in maniera da isolarne l'operatività quando un collega si struttura in plurimandato e avanti allora dico se ci fosse una norma che va più in là del divieto ai patti di esclusiva che poi la risposta è c'è il divieto ma se la gente sceglie di rimanere in esclusiva non lo possiamo obbligare ma non è una scelta allora se una norma imponesse alle compagnie di detenere almeno il 40% dei propri agenti in regime di plurimandato inteso per esso il possesso di almeno due mandati di compagnie generaliste non appartenenti allo stesso gruppo economico e finanziario sarebbero le compagnie a stimolare almeno il 40% dei propri agenti a sottoscrivere un altro mandato in concorrenza per loro poter adempiere la norma quindi non obbligare la gente ad essere plurimandatario perché la gente deve andare a pietire i mandati alle compagnie e quindi sarebbe impossibilitato a soddisfare la disposizione normativa ma se io obbligassi le imprese ad avere le proprie reti agenziali almeno al 40% o al 50% plurimandatari e sarebbero le imprese a fare gara ad andare a proporre i mandati per poter soddisfare l'esigenza è un'utopia ci si era provato ci si era provato però c'è la lobby delle imprese che è piuttosto importante in questi palazzi allora è un'utopia o è una strada oggi nuovamente percorribile perché risolverebbe un sacco di problemi parliamo parliamo siamo qui per questo mi pare che sia una strada ce lo siamo detti quando abbiamo fatto il punto su questa interpellanza che è stata praticata in passato senza esito o almeno senza l'esito sperato si può ripercorrere in virtù delle inefficienze che il mercato dimostra a 10 anni dall'entrata in vigore della legge perzani bene grazie a tutti voi noi ora ci aggiorniamo eventualmente sull'esito anche di questi nuovi incontri che con Claudio ci porteranno a stendere un nuovo provvedimento di legge oppure ad inserirci in alcuni provvedimenti che si falleseranno da qui alla fine del mandato io sono a disposizione l'altro collega che oggi non è qui perché aveva impegni sul territorio è Leonardo Impegno che si occupa con molta attenzione del settore lui in particolare è molto concentrato sulle tariffe auto e sul diciamo sulla discrasia tra nord e sud del paese perché lui essendo chiaramente della campagna lamenta queste tariffe diverse tra campagna e mezzogiorno in genere e il resto d'Italia quindi però è un suo focus ma è altrettanto attento è il secondo firmatario di questa interpellanza al settore nel suo insieme quindi è un altro collega che insieme a me del PD può dare una mano e così per togliere anche il vino dai fiaschi come si dice a casa mia non ho problemi a collaborare con altri deputati di altri schieramenti sia chiaro per me se abbiamo l'idea di perseguire una strada comune e si parte dai contenuti si può fare anche una proposta di legge trasversale che parta dai contenuti e dalle cose che ci uniscono anziché rispetto a quelle che ci dividono grazie a tutti 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 grazie a tutti